Il nuovissimo SPZ Merch è finalmente uscito Andate su FedericoSPZGames.it per essere i primi ad acquistare la nuovissima collezione Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di Adotme Oggi andremo a fare scambi nel server più ricco in assoluto di Adotme Ma prima di iniziare questo video, se anche voi volete il vostro dreampad Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e commentate il vostro username Roblox Vi ricordo anche di seguirmi schiacciando i tre puntini in alto a destra e unirvi al mio gruppo SPZ Squad Dove potete trovare nella sezione negozio tantissime magliette Se invece volete la mia amicizia su Roblox giocare con me o fare un video con me Andate su www.federicospzgames.it e andate a dare un'occhiata agli abbonamenti Eccoci qui su Adotme e raga oggi siamo nel server delle caverne più ricco di sempre E proveremo a vedere che cosa scambiano per il Krio Sphinx E questa specie di sfinge ma con la testa di una capra, vabbè è una roba un po' strana Però è il nuovo leggendario del Desert Egg E il secondo leggendario perché il primo è il Cactus e bellissimo E raga quindi adesso devo andare nella caverna a farlo neon perché ancora non l'ho fatto neon E andiamo a vedere un po' che cosa offrono in questo server super ultra ricco Mettiamo il primo, mettiamo il secondo, mettiamo il terzo e raga andiamo a mettere l'ultimo Siete pronti? Che tra l'altro manco si vede, cioè non so nemmeno dove spunta, dove sei Vieni qua, vieni qua Dovrebbe essere bellissimo neon tipo super blu Mi sa che faccio prima Ah no ok è arrivato, è arrivato Raga wow guardate che carino È super bello e questo blu secondo me è veramente veramente bello Ci sta un sacco E non è il mio preferito tra i leggendari perché preferisco il Cactus Ma questo è molto molto bello, devo riconoscerlo Purtroppo non credo di avere una ride Ma 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 dovrei avere una fly Visto che non le uso mai Ma questo qui ha le ali Diamogli una bella fly Così lo cavalchiamo e vediamo se qualcuno ci fa un'offerta per questo pet Abbiamo già un'offerta di Khalid Khalid, vediamo che cosa offre per il Creosphinx Ah e tra l'altro è un fan quindi se stai guardando questo video ti saluto Amber Traviesia ci sta mettendo un mega pig raga Sicuramente vuole che ne offriamo per il pig perché sarebbe una mega Mega win, scriviamogli hi Wow Alisa man ci ha appena offerto un evil unicorn Raga come posso non accettare una roba del genere Cioè raga devo accettare Cioè infatti hanno declinato Mamma mia che nervi quando fanno queste offerte fake Vi giuro mi fanno proprio diventare matto Però vabbè c'è stavo dicendo troppo bello per essere vero Troppo bello Però ecco infatti ci hanno declinato Secondo me non ci vale un evil unicorn Però siccome è appena uscito potrebbe anche valerci più o meno Allora vediamo lei cosa ci offre Comunque veramente cioè voglio vedere cosa offrono per questo Poi vediamo magari cambiamo pet Magari poi vediamo se offrono anche per altro Se riusciamo a scambiarlo Io questo lo vorrei personalmente scambiare perché non mi fa impazzire come pet Vi giuro vi giuro che non so veramente cosa ci possono offrire per questo pet Allora per il momento ne ho visto solamente uno o due in giro Quindi veramente veramente raro da trovare Però ok ci sta offrendo un vampire Due vampire Tre vampire raga Full grown Post in Ci sta Ci sta dando un vampire neon Praticamente sì Perché c'è Adesso non mi ricordo quali sono gli stage O è un easter egg raga Quanto mi piace questa offerta Quanto mi piace perché potrei farlo neon È già full grown Questo praticamente è già full grown Mi mancano da fare questi due Ma non dovrebbe insomma Cioè ce le ho le pozioni potrei farlo Quindi raga sarebbe un affare Perché se non sbaglio con dieci pozioni Venti pozioni me lo faccio E ce li ho venti pozioni Quindi ve lo potrei fare neon Damn Ride and fly raga Sapete che c'è Io vado ad accettare Perché preferisco di gran lunga questo qua Neon Che tra l'altro poi vale molto di più E questo qua andrà a valere molto poco niente Quindi primo pet andato Ho altri pet che vorrei vedere se offrono qualcosa Se sono interessati Quindi se lui accetta In più c'è l'easter egg del 2020 E raga questo mi piace parecchio Perché mi manca Quindi se lui accetta Raga ha accettato Fantastico Cioè io preferisco così Preferisco avere un vampire Tra l'altro mi manca Un vampire come dire Vediamo quello post in Ah questo qua è full grown Questo qua è post in Ok vediamo Ah ok appena appena post in Però raga veramente con pochissime pozioni Poi fly ride Per me Non so magari ho fatto male Magari ho fatto male Però secondo me ho fatto un affare Poi non lo so Fatevi sapere voi sotto nei commenti Però ricordatevi che questo pet Lo possiamo sempre trovare Rimane in game Per un sacco di tempo Qua in questo account Non dovrei avere tante pozioni Fatemi vedere No infatti ne ho solamente 6 Però tipo ecco Dove sei? Quello post in Fatemi un attimo resettare Perché se no mi mandano solo richieste Però tipo questo qua Che è quello post in Ok vediamo se gli diamo le pozioni Facciamo feed Ok diamogli In teoria con 2-3 pozioni Dovrebbe crescere a full grown Ultima pozione Quindi gliene ho date tipo 4 Sì 4 pozioni O 3 Non mi ricordo raga Ora vorrei aver metto la pesce rosso Dovrebbe avergli forse 3 4 4 pozioni Eccolo qua Che è diventato full grown Quindi praticamente Allora raga Questo qua è full grown Questo qua no Questo qua no Questo qua invece è full grown Mi mancano questi due Che sono junior Quindi sono già un po' cresciutelli Però ecco Gli devo dare delle pozioni a loro Boh vabbè Gli diamo qualcosa che ho qua Sinceramente Ma poi negli altri account Ho altre pozioni Quindi posso sempre Dargliele Così ce lo facciamo neon Secondo me ho fatto un affare raga Poi fatemi sapere voi Cosa ne pensate Ma secondo me Ah ok sto dicendo Cos'è successo Le lores Ok raga Le lores 50 E 50 Ok adesso è preteen Diamogli tutte quelle che ho raga Ne ho ancora una Così via E poi con gli altri account Me lo faccio full grown Che ho le pozioni anche negli altri account Quindi direi che Secondo me ho fatto un affare Per questo pet Adesso andiamo a vedere Se hanno altre offerte Che punto sta lui Che punto sta Almeno è teen Ok è teen E vediamo un po' Che offerte hanno Per altri pet Che ho Esempio Dovrei avere dei pet Tipo ho il jellyfish neon Il coca burra Il La snow monkey Che purtroppo non ho potuto farla live Non ho potuto fare i video per quel pet Il tasmanian Ho un po' di pet raga Ho un po' di pet Quindi vediamo un po' Che cosa offrono per questi E magari riusciamo a ottenere qualcosa di bello bello Allora direi di cominciare magari con Proviamo col neon coca burra Boh non lo so Magari a qualcuno interessa Sto cercando di vedere Se c'è qualche pet Che mi può interessare Allora abbiamo Tartle neon Che non è male Cos'altro abbiamo Abbiamo capibara Abbiamo Il canguro Però sapete che Non c'è molto Che mi può interessare Oh c'è lo strawberry Neon Che mi farebbe piacere Tipo che qualcuno C'è il miato trade E' interessato al coca burra Ho i miei dubbi Perché a chi piace Questo pet raga Non lo so Però ecco insomma Vorrei un po' vedere Se Non riesco a trovare Niente che mi interessa In questo server Devo essere sincero Ok lui ha un mega Frost Dragon Interessante Allora Vediamo un po' Allora sinceramente Devo essere sincero raga Io stavo cercando Il mega frost dragon Quindi se riesco a scambiarlo Vediamo un po' Allora Io dovrei avere Il mega frost Vale 5.41 Se io gli metto Questo E gli metto Niente raga Alla fine Col tipo Declinato Allora Vediamo un po' Ok C'è un mega sasquash Che è interessante Sto cercando di vedere Se c'è qualcosa Ma veramente Non riesco a trovare Nulla che mi interessa In questo server Abbiamo Wow Mega Lava Lava dragon Raga mi ricordo ancora Quando c'era Lava dragon Mega Non so neanche che fine ha fatto Cioè io penso di avere Tipo Aver avuto tutti i pet Raga lo voglio un sacco Questo Wait 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 Lo voglio un casino Raga lo voglio un casino Questo qua Aspetta Fermi tutti Raga niente Il tipo Mi ha declinato E veramente Cioè perché non Ha detto che non Mi erano interessato A quelli Ok raga Ho appena cambiato server Sono entrato in un altro server Delle caverne Spero di trovare qualcosa Qui di carino Dove magari Posso scambiare Perché in realtà Nel server In cui ero prima Non ho visto niente Che mi attirava E purtroppo Devo Insomma Scambiare questi pet Per qualcosa che mi piace Sono sicuro Che non valgono tantissimo Cioè nel senso Oh wow raga La prima volta Che vado qua E sono fuori E c'è anche gente Che sta saltando Tipo lì sul trampolino Adoro Alla follia Ok Questo server Raga Sembra molto interessante Anche se è un server Delle caverne E adoro Il fatto che Wow 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 Raga mi piace un sacco Anche la luce fuori Non so perché Vanno tutti nella caverna Qualcuno mi aveva detto Che vanno nella caverna Perché praticamente I pet neon Si vedono meglio Però raga Che pizza Cioè io Vi giuro Hi any offer for tomb Eh sorry I already Heavy Mi ha chiesto se aveva offerte Per la tombstone E raga purtroppo Ce l'ho già la tombstone Quindi non sono particolarmente Interessato Facciamoci un bel bel giro Visto che qua Sembra una roba super Veramente fighissima E vediamo Ok abbiamo un cactus friend Neon Molto cute anche qua Mi piacerebbe averlo mega E quindi boh Vediamo se c'è tipo lui Interessato per qualcosa Ok Ok facciamo Vabbè accettiamo lui Che ci ha mandato il trade Però tipo si Sarei interessato magari In trovare In cactus Wow Raga è impossibile Impossibile che ci vuole dare Un riccio Per questo Un riccio no potion Sto facendo una cavolata No raga è impossibile Perché il riccio vale Un casino Quindi se lui accetta Per il riccio no potion Raga È veramente Una mega win Cioè sarebbe incredibile Cioè sarebbe incredibile Una roba del genere Cioè anche quasi impossibile Io ho accettato Raga Non credo che lui accetti E infatti è uscito dal gioco Yay Allora vediamo se c'è qualcosa Altro che interessa No No Qua cosa abbiamo No Brown beer Aveva un sacco di roba Raga Casino di richieste Raga Cioè tipo Adesso ci ha messo il parrot Per cosa Per cosa Vabbè posso provare Cioè io lei non credo Wait Mi fa Ma in che senso Wait Can I do Raga in che senso Different offer Ok metto che mi fa Un'altra offerta Raga Per questa roba Ma è impossibile Raga vi giuro Che è impossibile Cioè pure il neon squid Per la jellyfish neo Cioè raga È impossibile Che ci sta dando Sta roba Impossibile Lo fanno tutti apposta Secondo me Perché non c'è spiegazione Cioè se accetta È veramente fuori Perché mi sta dando Un casino per un jellyfish Quindi secondo me È assurdo E infatti Ci ha declinato Ok raga Ho mandato trade A questo Che ha lo stroberry Vediamo se accetta Per una roba del genere Non ho la più pallida idea Vediamo se Accetta Niente raga Nada E non so neanche Quanto valgono Sti pet Cioè quindi sono tipo Messo qui che Provo a fare trade Ma niente Vabbè c'è questa qua Trading Mega Unicorn Flyride Kingmon E boh vabbè Vediamo se questa qua È interessata Perché vorrei avere Un unicorno mega Raga Io non ce l'ho E sarei interessato Quindi se riesco A scambiare un po' Questi pet Per un unicorno mega A me farebbe piacere Però non lo so Sinceramente se le persone Vogliono farlo Sì che l'unicorno C'è in game Da un sacco di tempo Però a me interesserebbe Allora mi ha detto Di aggiungere altro Raga io non so Che piffero aggiungere Allora Vediamo un po' Tutti i regali Raga Non posso proprio Aggiungere niente Ho il frog spawn Che non mi interessa E Questo posso aggiungere E mi ha declinato Direi di concludere Qua questo video Anche questo video Un po' flop Per quanto riguarda Gli scambi Vi farò sapere Se sono riuscito A scambiare quei pet Per qualcosa Se questo video vi è piaciuto Vi ricordo di lasciare Un bel mi piace Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo domani In altri video Ciao